In questa video guida, vedremo alcuni consigli, per scegliere i migliori multivitaminici. I multivitaminici servono a sopperire una mancanza che può essere legata a una cattiva alimentazione. Anche se le vitamine e i sali minerali sono presenti nella maggior parte dei cibi che possiamo acquistare non è sempre facile gestire la propria dieta. Al giorno d'oggi è difficile trovare alimenti 100% naturali, basando la nostra scelta più sul risparmio che sulla qualità. Non sono rari problemi di micro carenze croniche che possono portare a malattie degenerative, perdita di capelli, problemi alla vista, per questo molte case farmaceutiche propongono integratori vitaminici, ma non sempre è facile scegliere i migliori prodotti in circolazione e in grado di fornire un mix completo. Anche se le vitamine sono il nostro miglior alleato per una vita sana l'assunzione dei multivitaminici varia a seconda delle esigenze, si possono prendere 1, 3 compresse al giorno, ma evitando un utilizzo indiscriminato. Il loro utilizzo è più orientato a persone con squilibri alimentari o persone anziane. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi al proprio medico curante. Grazie. 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 Grazie.